Se Corona com'andrà a finire questa storia? Secondo me Fede Su Corona la Ferragni è assolutamente finita e Fede Se La Ferragni si lascerà Questa è la profezia? Oggi, 22 febbraio Roby, ma quale profezia? Quale profezia? Ho semplicemente detto la verità E ora sai che cosa succede? Sono cazzi Per tutti Ma dai A poche ore dalle voci che circolano riguardo Alla presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez Un nuovo scoop Non ancora confermato Agita nuovamente le acque Questa volta proveniente da Fabrizio Corona Noto per le sue indiscrezioni nel mondo dei VIP Già al centro di controversie legali Con i Ferragni in passato Secondo quanto riportato sul sito di Corona Fedez starebbe valutando l'ipotesi di intentare una causa legale contro Chiara Richiedendo la somma record di 100 milioni di euro per danni d'immagine Le parole di Corona dipingono un quadro di fragilità E difficoltà nel rapporto tra i due influencer Accusando Chiara di aver dissipato la propria fortuna E di aver perso il focus sul matrimonio Mentre Fedez sembra aver ritrovato se stesso in mezzo alle difficoltà Il racconto di Corona si sofferma su eventi Come il Pandoro Gate E le recenti controversie pubbliche di Chiara Delineando una situazione di crisi che sembra minare le basi del matrimonio Resta da vedere se queste indiscrezioni Si riveleranno vere e quali saranno Le conseguenze per la coppia più celebre del mondo dei social media E le conseguenze per la coppia più celebre del mondo dei social media E le conseguenze per la coppia più celebre del mondo dei social media